In questa video-lezione mi occuperò delle preposizioni improprie. Alcune parole vengono usate sia con la funzione di preposizione, sia con altre funzioni grammaticali. Quando queste parole hanno la funzione di preposizione, vengono chiamate preposizioni improprie. Ad avere anche la funzione di preposizione sono i nomi, gli aggettivi, gli avverbi e le forme verbali. Vi faccio un esempio. Ora vi mostro un elenco delle principali preposizioni improprie. Attraverso, quando ha una funzione avverbiale, significa obliquamente, di traverso. Quando invece ha la funzione di preposizione impropria, significa da una parte all'altra, per mezzo di, trasversalmente. Ad esempio, la luce filtra attraverso gli alberi. Vi faccio un altro esempio usando la parola dentro. Quando ha la funzione avverbiale, dentro significa all'interno, in un ambito circoscritto. Mentre se viene usata come preposizione impropria, significa in. Ad esempio, la maglietta è dentro il cassetto. Oppure può essere usata con un'altra preposizione. Ad esempio, la maglietta è dentro al cassetto. Poi abbiamo dietro, dopo, durante, eccetto, entro. Escluso, fuori, insieme, intorno, lontano. Vediamo ora come vengono tradotte queste preposizioni improprie in lingua tedesca. La parola contro in italiano viene usata, come ho già detto, sia con valore di avverbio, sia con valore di preposizione impropria. Se io dico, io devo valutare i pro e i contro, contro in questo caso, ha la funzione di preposizione impropria. Però, in tedesco, viene tradotta dalla parola nachteile, e cioè svantaggi. Infatti, si dice, io devo, i pro e svantaggi valutare. Mentre, se io dico, io voterò contro, contro in questo caso, ha la funzione avverbiale. Significa in modo contrario, opposto, in direzione di scontro. Oppure, con la faccia contro il muro. Anche in questo caso, contro, ha la funzione di avverbio. In tedesco si traduce con gegen. Mit dem Gesicht, gegen die Mauer. Contro Natura, gegen die Natur. Nuotare contro corrente. Contro la corrente, nuotare. Gegen den Strom schwimmen. Dentro, se viene usato con funzione avverbiale, viene tradotto con darin, darinnen. Portami la borsa. Dentro, ci sono i soldi. Bringe mia di tasche. Das Geld ist darin. Dentro, può essere abbreviato anche in drin. Se la parola dentro, viene usata come preposizione impropria, in tedesco viene tradotta con la preposizione in. Venite dentro casa a riscaldarvi. Venite in casa e riscaldate voi. Kommt ins Haus und wärmt euch. È rimasta dentro il convento per anni. Lei è per anni in convento rimasta. La parola davanti, se usata con funzione avverbiale, viene tradotta in tedesco con la parola davanti, c'è posto, davanti, c'è posto, davanti, c'è posto, davanti, c'è posto, davanti, c'è posto. Anche da for viene usato come avverbio e in alcuni casi viene usato come aggettivo. Davanti, quando viene usata come preposizione impropria, in tedesco questa parola viene tradotta con for, davanti la casa, for dem Haus, oppure for das Haus. La parola circa, se ha funzione avverbiale, viene tradotta dalle parole circa ungefea e tva. A trent'anni circa, ea ist ungefea dreisich jare alt. Duecento grammi circa, circa zweihundat gram. Circa, se ha la funzione di preposizione impropria, viene tradotta con la parola juba, informarsi circa il lavoro da fare, se stessi, circa il da fare, lavoro, informare. Sich juba, die zu allergende arbeit e erkundigen. La parola attraverso, se viene usata con una funzione avverbiale, viene tradotta in tedesco dalla parola kwea. Attraverso, trasversalmente, kwea. L'auto era firma attraverso la strada, trasversalmente la strada. Das Auto stand kwea auf der Straße. Attraverso, se viene usata come preposizione impropria, si traduce con la parola durch. La luce penetrava attraverso le imposte. Das Licht drank durch die Fensterleden. Attraverso i secoli. Durch jahundette. Dietro, se è usato con funzione avverbiale, viene tradotto in tedesco da hinten, oppure da nach hinten. Gli altri sedevano dietro. Die anderen sassen hinten. Mentre se viene usato come preposizione impropria, viene tradotto con hinta. Sta dietro la porta. E a stett hinta der Tua. Dopo, se ha funzione di avverbio, viene tradotto con dann, späta. Prima rifletti, dopo decidi. Erst jubaleg, dann entscheide. Dopo, se viene usato come preposizione impropria, viene tradotto con nach, danach, späta. Lo rividi dopo un anno. Io vidi lui dopo un anno di nuovo. Ich sah ihn nach einem Jahr wieder. Durante, in tedesco, viene usato solo come preposizione impropria, e viene tradotto con während. Durante, la lezione. Während der Unterrichtstunde. Fuori, se usato come avverbio, in tedesco viene tradotto con drausen, heraus, oppure hinaus. Ad esempio, fuori c'è un signore che ti vuole parlare. Drausen ist ein Herr, der dich sprechen will. Fuori, se viene usato come preposizione impropria, viene tradotto con aus, ausa, ausahalb. E' stato tutto il giorno fuori casa. E' ava' dea ganzen Tag ausa Haus. Per quanto riguarda le locuzioni prepositive, basta sapere che è importante conoscere bene le preposizioni improprie. Ad esempio, la terra si dice di e ad. Con l'articolo declinato secondo il caso dativo, si dice dea e ad. Quindi per dire sottoterra, io uso la preposizione impropria, unta, e in più, in questo caso, l'articolo declinato secondo il caso dativo. Sottoterra, sotto alla terra, unta, dea e ad. La casa si dice das Haus. Declinando l'articolo secondo il caso dativo, diventa dem Haus. Alla casa, dem Haus. Dietro, alla casa, hinter dem Haus. Quindi per dire dietro casa, dietro alla casa, hinter dem Haus. Hinta, preposizione impropria, più l'articolo declinato secondo il caso dativo, dem, più il sostantivo, Haus. Quindi in questo caso la locuzione prepositiva è formata da una preposizione impropria e dalla preposizione articolata, alla, che in tedesco invece è l'articolo declinato secondo il caso dativo. Armatevi di molta pazienza ed esercitatevi con le frasi. A tal proposito, più in là cercherò di realizzare un altro filmato inserendo molti esercizi sulle preposizioni. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!